Da qualche ora ha smesso di nevicare, ma il maltempo sembra non placarsi e i disagi causati dalla neve ora si aggiungono quelli provocati dal gelo. Il brusco calo delle temperature e le forti correnti d'aria fredda hanno letteralmente congelato il Molise. Il termometro è sceso di alcuni gradi sotto lo zero in diverse zone della regione. Durante la notte Campobasso ha registrato meno 4 gradi, ma sono le aree di montagna ad essere state particolarmente colpite, con una media di meno 10 gradi in diversi comuni dell'Alto Molise. Record a Capracotta con meno 14 gradi, ma le previsioni parlano di ulteriori diminuzioni nelle prossime ore. L'ondata di gelo non ha risparmiato neanche il basso Molise e nell'area del cratere a Bonefro i gradi al di sotto dello zero sono stati 8. La neve diventata ghiaccio ha provocato molti disagi, soprattutto sui collegamenti interni. La strada che collega Baranello a Busso, ad esempio, è stata a lungo impraticabile, costrigendo gli abitanti della zona, soprattutto anziani, all'isolamento. Ci sono volute diverse ore per riportare la situazione alla normalità. Tante le segnalazioni giunte anche dal capoluogo, dove le lastre di ghiaccio formatesi sui marciapiedi, hanno causato non pochi scivoloni. Traffico rallentato anche sulle statali e diversi gli interventi dei soccorsi stradali. I consigli restano sempre gli stessi. di mettersi alla guida di automobili solo se adeguatamente equipaggiate e prestare attenzione anche a piedi, con un occhio ai cornicioni, dai quali potrebbero staccarsi le stalattite di ghiaccio, e un altro ai marciapiedi.